Buongiorno a tutti. Vediamo la seconda conferenza. Essendo Natale ho pensato di farvi un regalo divertente perché Natale ha anche allegria e specialmente in questo momento è dimenticarsi dei problemi e cercare di lasciarli da parte per un attimo. Quindi il titolo è Un Quei Cosperi di Insulseri. È una storia della letteratura milanese ma non spaventatevi faremo una cavalcata di otto secoli in mezz'ora un po' contenuta però descrivendo di volta in volta quali sono i principali protagonisti della nostra letteratura. Sono tantissime. Noi ne vedremo solo una parte, vedremo solo quelle poesie più divertenti che però allo stesso tempo fanno pensare. Cominciamo dal primo che è Bon Vigile della Riva. Qua si parla, vedete lui era un fratello umiliati, e si parla di un periodo in cui non c'era ancora il milanese, c'era il volgare padano, una specie di lingua dove c'erano dentro termini un po' del Veneto, del Piemonte, una specie di mismascio, un po' di miscuglio. Quindi Bonvesin scriveva sia in latino che in volgare. Questo pezzo è tratto da un'opera in latino che è stata tradotta in milanese da grande Cesare Comoletti e si chiama I Grandeur de Milano, De Magnalibus Urbis Mediolani. E in questa opera lui parla di Milano e dice come era grande, quanti avvocati c'erano, quanti preti. Descrive la situazione storica di Milano. Però la descrive in maniera particolare, un po' un baiusciante littera, nel senso che diciamo che i dati forse le indicativano un po'. E se nella prima parte di questo pezzo vediamo che dice che Milano Mediolanum comincia con M e finisce con M che è il simbolo della perfezione, nel mezzo c'è la O che è il simbolo del cerchio, io mi vorrei soffermare sulle ultime righe. Dess'ora più che proprio anche denutate in questa parola che d'entertuce cinchi vucai, che gan l'erg vena in ogni sillaba. Per questo è nota che come il nome della nostra città e il manca minga dei vucai, insciano che alla nostra città la mancano della prosperità reale che la sia necessaria in senso umano. E come ai nomi di altre città che calano a quei vena di cinque vucai, insciano a quei città, misse al paragone di Milano che calano quei cosi in della prosperità di Roma. Cioè Milano ha tutte le cinque vocali, Mediolanum, quindi A, I, O, le altre città hanno Genua, hanno solo due vocali, Turin ne hanno solo due, cioè Genua ne ha tre. Però non ne hanno cinque, quindi vuol dire che Milano è quella che è più ricca delle altre, ha più prosperità perché ha più vocali. È un po' un baiusciante litteram, come abbiamo detto. E vediamo il secondo periodo del Quattrocento tra i Visconti di Sforza. Qua è curioso perché comincia a esserci una specie di milanese. E vediamo che la prima testimonianza è stata raccolta in un saggio di Andrea Vitali. Le testimonianze lessicali della Cancelleria Visconti a Sforzeschi. Vediamo che qua la maggior parte delle parole del milanese di allora, di sei secoli fa, di sei cento anni fa, più o meno erano simili, tranne Barbo Barbano che di Ezio sarebbe oggi. E abbiamo Azale che è la Zal, Co che diventa Q, Fopa è uguale, Gialdo è Gial. Quindi vediamo che molte parole sono uguali, non è molto cambiato. E la seconda testimonianza ci è data da un toscano, sì perché è questo periodo un po' particolare, nel senso che si cominciava a parlare già il milanese. Però molti che lo parlavano o che provavano di parlarlo, erano, non erano milanesi. Abbiamo Aglione che era stigiano, abbiamo i toscani come Pulci e il Dei, che hanno fatto le cose, però vedremo con una lingua che si sforza ad essere milanese, ma delle particolarità. Per esempio, vediamo questa poesia del Pulci, vediamo la parola pinceruoli, in miranese c'è il suono pinceruoli, che vuol dire acino d'uva. Cosa vuol dire? Vuol dire che in latino laolunga dà esito uo in italiano, cocus cuoco, focus fuoco, e quindi anche in toscano. In milanese dà esito ö, kök e fök. Lui naturalmente, non sapendo bene il milanese, scriveva la parola in milanese, ma la scriveva con l'esito toscano, quindi non c'è pinceruoli, e qua fa una descrizione scherzosa, un po' sulle abitudini, sul carattere dei milanesi. Questi mangia ravis e ravet versi, che ne mangia un toson per tre giganti, tanto che son ravisse tutti quanti, non sapranno ricever poi gli scherzi, e pur che gli scudisci un po' che sferzi, non par opera d'uomini, ma di santi, ma e mi bisogna voler largo a canti, chioveggo, e metterebbe mano a bierzi, e di con le carote e gniffi gnarri, e l'uve spiccilate pinceruoli, da far che non arrabbiar i cani carri. Milan può far di molti raviuoli, tal che il perdono quegli minchiatarri, se non dicessi in più, chiù come assivuoli. Qui non è muricciuoli, senza riposo è questa gente vana, ma sai quel che faria in Pazir Befana? La zolfa l'ambrosiana, e tanto credo che per gli scarafaggi non c'è ancora terra che Milano avvantagge. Vedete ancora Ravieu, scritto alla Toscana, Raviuoli. Passiamo ora al Cinquecento, il periodo spagnolo. Quindi Cinquecento è un periodo un po' particolare, perché in questo periodo il milanese comincia a progredire, ma soprattutto, in questo caso, abbiamo il primo dizionario di fonetica milanese, del biffi, è il primo vocabolario, naturalmente del capis, che ovviamente, come si suol dire, è un oriundo, perché era della Valdossola. Vediamo la prima poesia. Ecco, in questo caso, prendiamo la poesia di Fabio Varese, nella quale il poeta descrive la propria abitazione. In questa poesia, noi vedremo che non era molto comoda neanche un'abitazione in condizioni ottimali, piena di sporcizia, di rumore. non domandete grazie a dove sto, che maledetto sia, sto in dunacca, dove non posso di di nocci mai repusare, del frecci e del frecass e del spessù. Unacca sotto i cubchi, quando voi, go sempre, c'è in basi, denumerà, cento gradini da contare, da camere dall'inversi dove mai noc da, danissi un tem dell'anum pudessù. Permese i beccari, permese al fos e se senti becchi cui se fulgiasi che vanno sempre tagliando carne e balos. Donde se ved domani, don che lavastrash, depo andai finestra ma in un post, che non vedo voi ha sempre un petash, un orinale, sui scar, mili spiegash, de merda di fanci, di me vizini che cagano anche di veld sotto al cammino. In l'ora del mattino più sempre un concert che cagano che cagano di care di caret un terremoto. Ma questo all'ina got rispetto al ciasc che fanno i bartirei, i vedei dei becchi cui va che i bè. Tra l'oltre cagano un fio di un vecino che non mi lascia mai dormire che raggia dalla sera fino al di. Ma casse mi vuoi fuggire e portare via una nocce la paia e lecce. Maledetto sia padrone la caglia col tecce. E vediamo il 600. Il 600 è il secolo di Carlo Maria Maggi un grandissimo letterato che è il padre della nostra diciamo letteratura anche padre della nostra etnia in senso letterario ma anche culturale. Una cosa fondamentale e voglio sottolineare è quello i torinesi non si chiamano gianduiotti dalla maschera gianduia i napoletani non si chiamano pulcinella dalla loro maschera Milano è l'unico caso al mondo in cui una maschera Meneghino è diventata sinonimo per disegnare il cittadino di una città di una città importante come Milano e pensiamoci bene Meneghino l'altro sinonimo ambrosiano quindi legato a Sant'Ambrogio quindi niente di più di questo per di più Meneghino in origine non era un grande intellettuale era semplicemente un parrucchiere pettegolo e nelle sue poesie in particolare nei consigli di Meneghino Meneghino era uno che dava consigli al suo signore Don Fabio che spesso gli ascoltava quindi Meneghino non solo era un servo ma il signore ascoltava i consigli del servo una rivoluzione culturale enorme e appunto per questo ma non solo per questo ha fatto anche delle rivoluzioni fonetiche ha scritto anche libretti d'opera faceva scriveva in latino in greco come scriveva in milanese perché era anche segretario del senato ha avuto mille altre cariche tra le altre cose nera una persona noiosa ha avuto anche 11 figli 11 o 12 figli quindi però è uno dei capostipi della milanesità ci sarebbe da stare qua due giorni parlare solo del Maggi io però vi voglio far vedere solo una cosa due cose velocissime ha descritto la nostra lingua è una lingua curenta verte ciare che apposta la parfe per dir la verità scete gaillarda parpienta indiani mincialaboni verità del sempre gussa chissadruala partucà due ore e sgrià fuori il cuore ma il soddum principale è la facilità di far capire con esempi pensanti e proerbi i più blim con set di gran filosofo e sgrià di meneghin di meneghin pens allora qua il concetto è molto semplice una lingua corrente aperta e chiara che è fatta apposta per dire la verità oltre alla descrizione della nostra lingua dice ma il suo dono principale è la facilità di far capire con esempi panzani e proverbi i più sublimi concetti dai gran filosofoni fino al broletto il broletto è una volta dei cerni mercati generali quindi i facchini poi da ancora studiatemi ai giovanotti dite cose che edifichino che giovino anche nel raccontare baie cose leggere che allora si ricevono con maggior larghezza appunto nell'algarsi il cuore per l'allegria dica chi vuole questa è l'altevera del parlare l'eloquenza delle cose dalle cose viene non dalle ciance questo è un carattere anche pragmatico meneghino i fatti non le parole contano e poi chiude quale onore il vostro se i forestieri verranno a pescare i bei pensieri nelle meninate allora il milanese come tutte le lingue non è una lingua chiusa non è simbolo di divisione di razzismo anzi spesso seguendo questa lezione del Maggi abbiamo avuto anche nel novecento grandi personaggi milanesi di origine meridionale Walter Di Gemma che è un grande cantatore attuale che è di origine pugliese Mazzarella inutile presentarlo di origine sciliana un grandissimo attore chi ha scritto mia bella Maldonini era napoletano il barella che vedremo in seguito era Salernitano il più grande cabarettista Walter Valdi era anche lui di origine pugliese quindi questa lezione è stata seguita ma voglio dirvi ancora una breve cosa che ci indice il Maggi la competizione Milano-Roma è sempre estate sempre ci sarà e da questa competizione ne trae all'interno dei consigli di Meneghino due versi che mi sembrano importanti la cucina a Milano la corte a Roma dovunque c'è un luogo dove chi vuole correre troppo fare il passo più lungo della gamba inciampa la cucina a Milano e la corte a Roma quindi la corte a Roma l'importante la corte è considerata il pane della cucina a Milano e questo in contrapposizione a un luogo comune dove la cucina di Milano è molto povera 700 abbiamo il periodo il primo periodo austriaco dal 1606 al 1796 tra i tanti autori importanti questa Maria Teresa ne ho scelto un paio uno è Girolamo Birago e in questo breve sonetto breve lirica ci mostra l'esempio di una mentalità borghese di un tempo che non è solo di un tempo se voi nel frattempo vedete la traduzione capirete perché i padri sull'altit guardano a colugai con poca dota importante che il mario che è grande e sia bello brut i madri tant hanno imparato la scura devendo il marios della fiera e senza oltre pensere per loro la dana che è andata più e se con questi guadagni quella si rompe il col le penso d'agni e tutti dicono se vengono a mario vengono a quel che più piace loro senza vore ascoltare il suo maggiore anche morose adesso squast fanno l'amore per interesse e se si sentono di vore la tala la bella la me piace macusa gela nella secondo poesia vediamo un sonetto di una abbiatense di abbiategrasso francesco girolamo corio il quale ci spiega una caratteristica tipica anche del milanese che per fare qualsiasi cosa ci vuole il lavoro governò la canetta dei vedere quindi le cose crescono se uno si impegna in quelle solo l'agricoltura sul milanese non è caratterizzato sia del busco brughiera che avrebbe non si possa ridur tutta coltiva l'esperienza ne la fa vedere se puoi insegnare quei speculativi a pientare succhere pevere caffè e fare insetto in sare di oliva che sarà vl'india gorla ma se il vilano non sgoba o chi le dà se non è il terreno se a te non vanga ven fuori di terreno ma guadagno vediamo un periodo a cavallo tra 700 e 800 un periodo un po' particolare perché ha avuto due personaggi due monumenti in senso opposto uno che scriveva soprattutto in milanese l'altro scrive in lingua franca o in italiano che è Alessandro Manzoni Don Lisander e vedremo di questi due grandi personaggi vedete il Manzoni che guarda il basso in alto il porta vedremo alcuni pezzi dunque in porta vedremo due particolari sonetti uno sulle lingue locale e una sull'autonomia non li ho messi a caso ma le due cose sembrano contrapenetrarsi perché spesso l'autonomia o l'indipendenza di qualsiasi stato è uno stato riconosciuto se uno stato ha anche la sua lingua quindi in primo caso c'è un signor Gorelli un senese che veniva a Milano e credeva che appunto perché essendo senese quindi toscano per cui tra virgolette parlava l'italiano la sua lingua fosse superiore e vediamo cosa gli risponde il nostro porta usciria nella terza ultima riga vuol dire vos signoria i paroli d'un linguaggio car sur Gorelli in una taulossa di color che pon fa il quadro brut e pon fabel secondo la maestria del pittor senza idee senza gusto senza un cervello che regola le parole del discur tutti i linguaggi del mondo come quel che parla un sommilissimo servitore esti dei stup un gust già il savara che noi in privativa di paese ma di cui che gan flema di studia tale vera che imbucca di sciuria il bellissimo linguaggio di sienese il linguaggio più cui un che mai che sia nel secondo sonetto invece il porta parla dell'autonomia però usando una metafora enologica vediamo la prima riga tu c'hai alicante champagne tu c'hai il vino in Ungheria quindi Austria Ingheria Alicante Spagna è ovviamente riferito alla Francia e alcune righe per il stomach d'un bum milanese che erano scritte fino a poco tempo fa anche sul cartone della centrale del latte di Milano sui cartoni del latte che tu c'hai che alicante che champagne che pace che mes ciò fu rester vinnustran vinn di campagna ma legittim ma c'è ma sincero per il stomach d'un bum milanese che varroba del nostro paese non che paci del bel e del bun fiur de mans de vedi de capung fiur de pan de formai debiter non em besone de falcun culbicer e per ques la gran mare der natura la se tolta la santa premura devu anjo ad bev culbucà fiur descabi passante salà fiur descabi must tuse sutire di nos vinn di nos rum di nos fiur vinn ustran vinn ustran turnia di detrincar con car larga memoria che divin fureste la gran borgia per il più la battuta furnì in dun puff fum e scum e bottli invece del manzoni che si peritava tanto io vado a quare i panni in armi importante l'italiano però il signore a casa parlava milanese e l'unico sonetto che ci è rimasto è questo sotto vedete la traduzione quindi non ti che ve la dic è anche abbastanza acuto l'Ottocento è un periodo importante in transizione soprattutto per la scapigliatura e la tradizione teatrale vediamo qua Ferravilla e Bertolazzi i due grossi assi che intendevano naturalmente il teatro in senso opposto noi vedremo però alcune poesie veloci una è questa merita ricompense di Luigi Argenti voi sentiamo contro i critici strapparsi che spiega in gioco intensi come una gotta e senza andare a cercare che abbia rotta sarebbe buono di andare contro la tasso mica senza avanti sono capace non per ridi di contare una foto che non vengono di far restare botta le vengono solo ma ne vengono ma a un minister d'estate che salta in mente deve ci sarebbe un'altra poesia di giulio deccio anche questa è un po' particolare noi vediamo spesso dei quadri incomprensibili vediamo quadri con tutti bianchi con scritto bianco lui si riferisce all'arte del novecento che spesso non è sempre comprensibile e lui dice va bene uno può fare un quadro bianco scritto bianco però deve dimostrarmi di essere un pittore se sa fare anche dei quadri alla maniera antica ticci gran pittore sta bravi una volta ad impastare modelliamo una gamba un braccio un pè una testa una mano quel che vi piace magari un naso come quei di scultura di tempi andrei e poi vi dici fare pure come vorrei fare una pelle decuncia bruttel bell se lei questo è il pitt che gav in cu ma fino a quando carne vecentista non savare i proamti del contrario scusè se un ciulandare tale qualche su mi può essere passatista e se te la licenza di senza riguardo bel ciare net che minga per progetto ma i vos pegas i f per impotenza novecento abbiamo visto non è solo Tessa che è un grande poeta è il massimo poeta dell'espressionismo italiano che scrive al milanese e di fatti qua c'è il suo capolavoro il Dì di Morta Lega volevo farvi solo due poesie due curiosi una è il nome giusto e poi ti diamo in bellezza come per la prima conferenza col Barrella spesso noi diamo un nome a un figlio anche a me mio figlio mi piacerebbe si chiamasse Ambrogio o magari da altre parti Efisio in Sardegna o Gavino però spesso abbiamo un problema il nome è un problema perché l'è minga tanto facile scerni un nome di Daga un patanino che il cadenas per non sentirci a male un pò o battesano un ananas mi ve consigliaria o genitor della sagfa di grande la scelta la scelta vediamo perché mi parli in sci un cognosione tranquill sempre nervoso un fermo che il cureva tutta il dì un leone come i pegur timoros un libero in presunto e due un hercule gracilimpio in dei malani un primo che le raccorde il fratello un innocente di perca perduto un calvin con il cup pieno di cave un candid balucetto e furb perduto un mansuet con un brut caratterino e un donato che il vorrebbe un regalino un fedele bandirella e quattro vento un autun che il guai attivo rilustrato un delfin che il cammino il parla il sent una dame che colpò la malfalcià un valentino che il fila come un mat e un ombun che il vele resiato per i tuzani la sulfa è la stessa una cerina nera minscurbato una santa che l'asculta ma è la messa una nerina bianca come il latte una pia crescida senza fed una romana nativa dei varedi una rosa che la spussa di sudore una monica con sulla minigonna una lice sposata da un pescadur una dea colcubase sciabalona una lisa che le minga demanda una sunta senza pos della urà una maria bagna in l'acqua fredda una perpetua morte del 38 una patricia che lava i pei in la seggia una stella che brillano a denotte una regina di fede repubblicana una marina della val brembana che ne saranno per un bel pescadur ma credi deve stare abbastanza char genitor senza fare peteguless ricordaves che non particolare a tutti dei grandi che fanno venire stupendo 7 volte sudese motivo di delusione chiudiamo con una bellissima poesia di Giovanni Barrella il brevista l'americano è la storia di un vettorino il brum in termini milanese da Lord Brougham che sembra abbia inventato la carrozzella che si imbatte in un americano che essendo abituato a cose esagerate dice in America fanno tutto meglio allora vediamo un po' cosa ci dice un vecch brumista un tipo d'ambrusiano ammò con il gile russo e il cilindrino l'ha carregato ogni volta americanti dei passaggi in full da via manì che il gherogna con taria malcontenta volere visitare monumenta dopo un quei tentativi per dagli inviata a furia di vala e col pedibria il bro che si decida va dalla strada e lui il brumista in vena dell'egria comincia a pensare a vedere pulire la statua del cavolo con il sorriso che c'era che c'era che c'era in basso sembra facciare di che c'era che c'era quello che si si era di ma adesso ti insegni l'educazione ed è stato il frutto del cavallo e tanto per far vedere quelle cose belle che mostra triunfanti i bei giardini, scondendo il vero appunto il sole stelle. Ma quel me fanno dei spessi americani e fa un gesto di disgusto con i domani. Non c'è il giardino che va, porca gibula. Ma le sai che dice un cicchino smurfiato? Che quello che gli ha fatto? Che l'era no una ciulla, il balzaret, l'ha fina la pida e poi che dentro i vesti di sott'anni e che di piano che gasta quasi cent'anni. Lapidano vuol dire lapidato, vuol dire che è messo su una lapide. America ciardini fare a vista sei mesi e un anno pianta centenaria. Sarà il mastega tra delle brumiste, ma per fortuna che chi sema l'aria, se no quell'asio lì con tisobal e riscia di sgonfiamo anche al cavallo. Ed ande con bufetta alla ganassa e un'altra culo di frusta al sobulin con l'arion pulighida di Bardassa e il vaso di Cursvenessia li vicino. E per mostrare quel cos'è straordinario il ferma il broc davanti al planetario. questo l'ha regalato alla città anche si bene che l'era un fureste che sarebbe opli dopo tanti anni che l'esta chiede un galantone di un negoziano libero. Questo è completo e si fa svelta a dirlo ma che è un certo tempo che è finito. L'America fa questo in settimana il dì risciando il naso l'americano e per il brimista il buffa il si è scalmata e che comincia per i snaghi ma adesso che molli un craff in vecch balotta ma il met l'abertà in segno il disnagotta e il volto il socca l'es per andare in piazza e mastegando cadendo in mezzo ai denti e il tirando fuori il cancanino e spassa e mette in buco il bago spi sul lente e il va fermando a posto sul canton del grattaciel di Monamore con Napoleone. Lì in sci convinte avendo la sua vendetta e il se volto a desbiare sul dedere e troneggiando l'alto e la cassetta e il che domanda sui al fureste è un rabisci in l'America che l'hanno e se l'hanno in quanto tempo il fanno? L'americano pensando il suo carcass con 300 anni non c'aveva in demenne e il guarda il grattaciel dell'alto in basso e scorre il cu e torna a guardare bene poi il che risponde con aria nauseata America fa questo in la giornata. rampegando per l'arabia il vecchio brumista il trova la forza di Tazè e il sacramento un po' contro un ciclista e intanto lot lot ma l'è come non l'è e arriva fino in fondo il corso vittorio e il passa a renta il don senza fa storia o finché finalmente l'americano scatta come se un trago che si ne spasse la vista e sarà prima 10 poi è sbarata poi salta in peta cande sal brumista le scurlisse il tempeste il sempuntiglia il versavè celeste meraviglia miracolo portentoso culusal quando chi come fatto monumenta ma il vecch primista il tira il cundispal il gherispu cuntaria indifferenta c'è il ver che sappia in tanta le siringa su un passade chi stamattina il gheraminga e con questo auguri di buon felice e sereno Natale a tutti se vedo ma la prossima